la protesi può essere svitata quindi la domanda è quando faccio la pulizia la devo svitare la protesi anzi la mano chi pensa che va svitata senso pratico se è sporca la si può pulire con degli strumenti che muovi quindi meccanici e vai a staccare lo sporco poi anche sa non sabbiarla spruzzare bicarbonato a getto e scrosta la protesi se invece la protesi ha dei problemi oppure veramente molto sporca o ci sono controindicazioni all'igiene domiciliare non controindicazioni impossibilità all'igiene domiciliare pazienti che hanno la mano che gli fa così per esempio come fanno quelli a pulire in maniera efficace o non hanno controllo non riescono a usare pensate un paziente che non riesce neanche aprire troppo la bocca allora in quei casi conviene intervenire ogni tot mesi e svitare la protesi e c'è un protocollo che che va seguito è un protocollo internazionale che vi faccio vedere qua eccolo qua ce l'avete questo non vi serve ce l'abbiamo noi questo ok questo è un protocollo interno nel senso che noi sappiamo quando va tolta la protesi la rimozione della protesi va fatta solo in caso di problemi che per l'igiene non va tolta per quale motivo non va tolta per l'igiene perché l'igiene la fai ogni sei mesi anche se la togli ogni sei mesi vita svita vita svita vita svita c'è da si allenta si spanano le viti o c'è il rischio proprio che cedono i denti attorno alle viti